buongiorno cari amici ben alzati e buona domenica in questa ultima domenica di agosto 30 agosto 2020 siamo alle ore 8 e 40 minuti prima primi scusate bene da ieri è disponibile su spreaker che dopo che registro il video lo metterò come link qui sul video però lo trovate già anche su spotify basta cercare su spotify a ng in radio tram in radio staffetta trovate già la prima seconda e terza puntata spero che quando andrete ad ascoltare il mio podcast come gli altri vi piacciono per il resto se vi va ci potete sostenere noi siamo appunto su spreaker spotify facebook e instagram per facebook e instagram è merito di una persona straordinaria perché insomma in 448 così ha aperto le due pagine dei social per il resto ho detto è un progetto avviato noi siamo dei giovani under 30 con la voglia di metterci in gioco quindi vedete un po' voi se volete darci fiducia e bene altrimenti se quando ovviamente avete la possibilità avete tempo e volete passare una decina di minuti in compagnia ascoltateci ne rimarrete soddisfatti bene dal vostro Nicola De Lucia è tutto io non posso che augurarvi di nuovo una buona domenica noi ci rivediamo quest'oggi per innanzitutto i pronostici di WWE Payback 2020 tra un pochino e poi ci vediamo nel pomeriggio per commentare la gara che insomma staremo a vedere perché già ieri con le qualifiche abbiamo fatto una figura magrissima noi della Ferrari poi va bene dai i saluti ora vanno davvero quindi il vostro Nicola De Lucia vi raccomanda appunto di sostenertici a noi della radio staffetta Trani perché grazie a voi potremo comunque ottenere anche dei buoni risultati avere un buon prodotto al seguito quindi grazie a tutti ci vediamo al prossimo video e di nuovo alla prossima ciao alla grande alla prossima ciao